non c'è nessuno che può sconfiggermi è tempo di lottare primo combattete colpa del pio di talmente di rasco con le sue potenze finalmente tu sei morto se vuoi salvarti di subito il mio nome ti do un'ultima possibilità rialzati e combattere secondo round combattete prendi questo prendi questo prendi questo tu sei morto sono il grande maestro della sacra scuola di Okuto con il maestro Jagger con il maestro con il maestro